L'amministrazione comunale ha sviluppato una nuova interfaccia internet per la comunicazione con i cittadini e le imprese. Il Comune di Modena è con te, grazie al sito consultabile da smartphone e tablet. Una grafica semplice con un corredo di mappe e immagini che evidenziano le notizie e fanno conoscere gli eventi del territorio. Comunicati stampa, video e tweet dai social comunali completano l'offerta informativa. Le risposte alle domande più frequenti dei cittadini sono consultabili in home page e nella testata del sito sono accessibili informazioni sulle funzioni, i servizi e l'organizzazione dell'ente. Offrire servizi per avvicinare cittadini e imprese all'amministrazione comunale, questo è l'obiettivo del sito del Comune di Modena. Grazie.